abbiamo qua anna maria tensa a cui facciamo un piccolo applauso assolutamente lo facciamo noi a voi e in questi 50 minuti che passeremo insieme parleremo di creatività tra l'altro anna maria tu hai il tuo libro immagino in borsa che io non ho neanche preso dalla nostra amica libraia lo sventoli subito la trama lucente che in realtà un vecchio libro di anna maria che anna maria ha sentito il bisogno di rieditare di riaggiornare quindi io partirei da questa cosa qua se tu hai voglia anna maria perché la trama lucente hai sentito il bisogno di rimetterci mano e di ritornare ad aggiungere materiale a questo tuo dialogo con la creatività allora innanzitutto buonasera e ancora grazie e ancora grazie a tutte sappiate che ho deciso di mettere in palio un canestro di domande quindi noi andremo veloci poi risponderò molto volentieri a tutte le vostre domande ma neanche poi proprio durante anche durante quando mi viene in mente una cosa sventolate la mano e si chiacchiera cavolo stai dicendo per esempio che può essere sempre un'interlocuzione interessante dunque io ho cominciato a fare creatività bene addietro nel secolo scorso produrre creativamente delle cose ho fatto pubblicità ma poi ho scritto tanto e queste sono attività creative nel senso che consistono nel dare forma inedita a dei pensieri anticipo ma poi ci torniamo il fatto che il linguaggio qualsiasi espressione linguistica è per definizione una espressione di creatività cioè usare il linguaggio è compiere un gesto creativo perché? perché mettiamo insieme parole che esistono in modi nuovi e appropriati in quanto comprensibili in quanto adatti al contesto in quanto capaci di trasmettere utilmente del pensiero questo significa anche che noi dovremmo rispettare molto quello che noi diciamo perché quando parliamo quando scriviamo stiamo facendo un gesto creativo che ha delle potenzialità creative molto forti detto questo ho sempre trafficato con la creatività a un certo punto mi hanno chiesto di andare a insegnare in università e non c'erano libri per ciò che volevo insegnare quindi mi sono scritta un libro siamo negli anni 80 e poi mi hanno chiesto sempre i miei ragazzi dell'università di approfondire il tema della creatività cos'è? perché ci dicevano le stravaganze più stravaganti per cui nel 2005 ho cominciato a fare con Regione Toscana un festival sulla creatività di cui sono stata direttore scientifico e organizzatrice e abbiamo fatto un convegno abbiamo fatto un festival poi su queste cose ho cominciato a scrivere un blog che è tuttora in attività che si chiama Nuovo e Utile e poi ho pensato che vabbè dovevo mettere tutto un po' in ordine e scrivere un libro la trama lucente poi magari dico anche come mai questo titolo bizzarro è uscito nel 2010 è stato subito ristampato e poi ristampato un'altra volta nel 2014 è andato benissimo così bene che una volta che si è esaurito si è esaurito anche in tutti i circuiti dei Remainders e anche nel mercato dei libri usati per cui hanno cominciato ragazzi che stavano facendo la tesi di laurea oppure la tesi magistrale oppure giornalisti a scrivermi dicendo ho cercato per Mari e per Monti una copia della trama lucente non si trova mi serve per la tesi signora se lei ne ha una copia me la vende io ne avevo una copia mi sono tenuta per carità oppure gente che stava scrivendo articoli gente che aveva bisogno di approfondire consulenti aziendali mica tanti ma negli anni un certo numero quando Garzanti che è il mio editore da diversi anni mi ha detto ma tu hai un libro che aveva valore e che adesso è fuori di mercato e mica voglia di lo ristampiamo mi ha detto fermi in in 13 anni è cambiato l'universo quindi ripiglio in mano il testo e me lo riscrivo per cui è stato tagliato ricucito integrato ho tirato via delle robe che sono state che sono state superate nel tempo ho tirato via anche alcune lungaggini di discorso che un po' erano filtrate nel testo perché la prima volta che mi sono avvicinata a questo tema ero intimidita cioè gente se noi siamo qui seduti su delle sedie di plastica dentro un edificio in una stanza illuminata da lampadine parlo attraverso un microfono voi siete arrivati qui in macchina in treno siamo vestiti parliamo tutto questo non esisterebbe se il genere umano non fosse creativo saremmo come i nostri progenitori a spulciarci in una blanda centroafricana piuttosto desolata per carità i gorilla e gli oranghi sono rimasti lì perché il genere umano è arrivato fin qua e ha costruito le cattedrali e ha costruito i razzi che cosa lo muoveva ecco per questo il tema della creatività è importante strategico per questo la creatività ha a che fare con l'innovazione la creatività è questa nostra straordinaria capacità di inventare il nuovo per affrontare e risolvere problemi per aprirci nuovi orizzonti è una capacità che è guidata dalla curiosità dal desiderio di superare noi stessi dal desiderio di condividere qualcosa con siamo degli animali sociali quando anche se ci faceva la guerra siamo degli animali sociali non dobbiamo mai dimenticarci quindi la creatività è anche il desiderio di condividere con gli altri torno a questo libro dico tre cose che sono cambiate tre delle molte che sono cambiate in 12 anni per esempio e torno a un remotissimo passato nel 2015 circa si è scoperto dentro questo libro c'è la spiegazione del perché il linguaggio è la radice della creatività il genere umano ha sviluppato il linguaggio un linguaggio verbale poi il linguaggio dei numeri poi quello delle notazioni musicali e poi tutti i linguaggi specialistici quello delle formule chimiche per esempio comunque il genere umano ha cominciato a sviluppare il linguaggio verbale centomila anni fa più o meno e i nostri progenitori sapiens stavano già venendo via dall'Africa e avevano già migrato molte altre volte ma l'ultima migrazione è quella che porta i sapiens in Europa poi fino in estremo oriente eccetera e i Neandertal quando si sono incontrati parlavano non parlavano capivano non capivano dieci anni fa si pensava che i Neandertal non capissero adesso abbiamo scoperto che nel loro apparato il loro apparato uditivo riesce a distinguere i suoni ovviamente non abbiamo tracce sonore di 30.000 anni fa però le orecchie dei Neandertal erano capaci di distinguere i suoni del parlato quindi probabilmente erano capaci anche di parlare anche se non bene come i sapiens si è scoperto che i sapiens e i Neandertal condividono delle parti di DNA e questa roba qui dieci anni fa non si sapeva si è scoperto che c'è stato un terzo ramo del genere umano l'uomo di Denisova scoperto anche questo in questo decennio e i Denisova si sono incrociati sia con i sapiens sia con i Neandertal e probabilmente la mediazione di questi incroci è stata anche linguistica voglio dire se uno torna alle radici della nostra creatività scrivere questi nuovi fatti è rilevante arriviamo ai primi del novecento dico le tre cose tre delle mille cose che sono cambiate arriviamo ai primi del novecento Freud scopre l'inconscio scopre con ciò la dimensione dove fioriscono usiamo questa metafora le idee creative poi se volete racconto anche come funziona la dinamica del pensiero creativo e contemporaneamente i teorici della Gestalt sono tre psicologi tedeschi il più importante dei quali si chiama Kohler formalizzano il modo in cui noi percepiamo l'ambiente che ci circonda e intuiscono che lo percepiamo secondo i suoi schemi cioè noi percepiamo questo tavolino in termini schematici come un contorno che racchiude una forma assolutamente sì assolutamente sì ma noi ci facciamo l'idea noi lavoriamo esattamente come noi lavoriamo esattamente lo facciamo da piccoli e per questo i bambini piccoli sono dei piccoli scienziati ma noi ci costruiamo i nostri schemi attraverso l'esperienza sommando esperienze cioè una volta che siamo esposti a 50 quadrati noi riconosciamo il quadrato anche l'intelligenza artificiale riesce a fare la stessa cosa ma ha bisogno di essere esposta a 500.000 quadrati perché noi dopo il registro 50 quadrati riconosciamo il quadrato anche se è sdraiato o se è storto e se è deformato dalla prospettiva se io faccio così questo non è più un quadrato ma io so che è un quadrato l'intelligenza artificiale ci mette mille volte più di noi dopodiché si mette tutti i quadrati in memoria e diventa molto più veloce di noi a riconoscerli in qualsiasi situazione torna indietro Freud Freud intuisce la rilevanza della dimensione inconscia la formalizza dice che è un posto un po' torbido pieno anche di pulsioni sessuali non risolte eccetera e tutto ciò poi negli anni successivi viene un po' ritenuto quasi una fantasia o una chiave interpretativa bene le ultime ricerche neuroscientifiche sembrano aver collocato trovato che con la con le tecniche di imaging su cui lavorano i neuroscienziati hanno trovato nel nostro cervello la sede dell'est la sede del superio quindi l'intuizione di Freud non era così peregrina quelle robe lì ci sono d'altra parte si è scoperto e anche questa è una roba degli ultimi 2015 quindi quando ho pubblicato questo libro non c'era che non è vero che il nostro che noi abbiamo un emisfero destro creativo è un emisfero sinistro razionale non è assolutamente vero è sempre stata una bufala è una bufala no abbiamo una cosa molto più complicata nella testa abbiamo tre reti neurali tre diverse reti neurali e qui arrivo perché si chiama trama lucente che interagiscono una che governa il pensiero in una condizione di attenzione diffusa cioè il pensiero che fantastica sogna immagina una seconda rete che focalizza analizza verifica e una terza rete che switcha dall'una all'altra quindi è molto più complicato che non un cervello un cervello diviso a metà questo è l'ultima cosa l'ultimo cambiamento recentissimo parliamo agli inizi del 2022 è l'intelligenza artificiale e parlando di creatività non si può trascurare questo tema e quindi anche questo è entrato dentro questo libro basterebbero questi quattro fatti per costringermi a riscriverlo in realtà poi c'è dentro anche documenti nuovi intuizioni nuove robe che riguardano l'impresa eccetera 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 ascolta allora ci hai raccontato che cos'è il libro quindi contiene tutte queste cose e mille cose di più nel senso che dovessimo davvero andare poi a ad aprire ogni singolo capitolo del libro e a dirvi cosa c'è dentro potremmo stare qua per le prossime 24 ore ma non lo faremo quindi io come dire arbitrariamente scelto alcuni passaggi che mi hanno molto interessato rispetto ad altri ad esempio Anna Maria Testa inizia il libro dicendo che tra le molte cose che questo libro è non è un libro che aiuta a diventare più creativi ok quindi non è un libro che ti insegna a essere più creativo ti spiega cos'è la creatività ma la domanda che io voglio farti è ma si può insegnare la creatività non in termini letterali cioè una delle robe più aberranti che mi è capitato di sentire è signora possiamo prendere alcuni suoi contenuti perché li metteremo dentro il nostro sussidiario per l'ora di creatività a scuola secondo voi cosa ho risposto forse no anche no no perché voglio dire la creatività è un atteggiamento mentale ed è qualcosa che non puoi imporre si creativo è un'ingiunzione paradossale come amami o come si spontaneo se vogliamo citare il vecchio Vasslavic nel momento in cui tu obblighi qualcuno a essere creativo o presumi di insegnargli a essere creativo lo blocchi nel senso che la creatività è libertà prego quindi dice direi conoscendo la teoria della creatività uno sblocca ma anche ma anche riconoscendo il gesto creativo che può fare certo è l'obiettivo di questo libro ha centrato esattamente ha individuato esattamente l'obiettivo di questo libro questo libro spiega che cos'è la creatività spiega quali ambienti la favoriscono quali situazioni la favoriscono spiega in quanti modi la creatività si esprime spiega come funziona il processo creativo spiega quali sono come è fatta la personalità creativa quali sono le caratteristiche delle persone creative e anche spiega come gestirle come motivarle spiega qual è l'importanza della motivazione spiega cos'è il flow cioè il flusso creativo ma non ti dice per entrare nel flow devi metterti con la schiena diritta e respirare profondamente tenere gli occhi succhiusi e focalizzarti su una mela rossa che ruota su se stessa e poi parte come un razzo spaziale perché non funziona così però questo libro dice per esempio la creatività non si sviluppa nel vuoto quindi se tu vuoi che io ti dia una soluzione creativa non mi dici si creativa mi dici qual è il problema e io magari lo risolverò se tu vuoi che io faccia delle produzioni creative da piccolo e da grande mi dai degli strumenti mi insegni a leggere a scrivere a imparare a capire a approfondire a districarmi nel mondo mi insegni delle tecniche mi incoraggi da piccolissimo a fare domande le domande sono la premessa di qualsiasi creatività tutte le scoperte scientifiche sono date da gente che sapeva farsi domande inedite cioè Einstein scopre la teoria della relatività davvero e l'ha detto lui domandandosi che cosa mi succede che cosa mi succederebbe se io cavalcassi un raggio di luce Newton secondo la leggenda dice perché questa mela mi è caduta in testa ma i signori che hanno vinto adesso il Nobel perché ci hanno tutti vaccinati grazie al cielo e a loro si sono fatti delle domande dicendo non è che l'RNA che è così una roba così magica un po' modificato potrebbe essere la base della formazione di un vaccino la creatività scientifica nasce così ma la creatività letteraria nasce così che cosa succederebbe a una coppia di novelli sposi se un cattivo ci si mettesse in mezzo e gli mandasse e un prete fifone cercasse di togliersi dai piedi beh certo infatti come dire la teoria americana della narratologia dice che tutto parte da un votif sì certo certo ma è tutto e se cosa succede certo cosa succederebbe se o perché questo succede o come mai questo succede o perché succede questa cosa e non un'altra quindi certo farsi domande qui c'è tutto un lungo piano su farsi domande è fondamentale ma se io ti dico fatti delle domande inedite ti spiego anche come farti delle domande non ti sto dando un esercizio di creatività ti sto dando uno strumento per sviluppare la tua creatività che sarà diversa da ciò che io riesco a immaginare è un po' più onesto fare questa roba tu hai detto tu hai detto di no a questa proposta di mettere i passaggi del libro nel sussidiario no no lo fece abbiamo anche questo agli esercizi di creatività agli esercizi ma allora secondo te te lo chiedo perché non lo so proprio tu hai esperienza di insegna come dire di stimolo alla creatività perché non si può dire insegnamento ho 50 anni di esperienza ma nelle scuole nelle scuole non so magari nelle scuole medie nelle scuole elementari nelle scuole superiori in università sì esattamente in condizioni lavorative sì con dei corsi di scrittura creativa sì con i bimbi non mi è mai capitato però c'è gente che l'ha fatto in maniera straordinaria prima di me voglio dire la scuola Montessori che mette al centro il bambino non tanto nei suoi criteri come dire ideologici ma nel suo farsi è una scuola creativa molte scuole americane e in me sono scuole creative grazie a tutti grazie a tutti